L'eretico Giovanni Calvino, seguace di Lutero. Il calvinismo si divide in due comunità, il presbiterianesimo e il congregazionalismo conosciuto anche come Movimento dei Puritani, di Corrado Nierre. Il calvinismo si chiama così perché fa riferimento alla dottrina di Giovanni Calvino, seguace di Lutero, ma anche sostenitore di tesi del tutto personali. In Gran Bretagna il calvinismo si divide in due grandi comunità, il presbiterianesimo fondato da John Knox e il congregazionalismo fondato da Robert Brown. Quest'ultimo in Inghilterra e nel Nuovo Mondo diventò il Movimento dei Puritani. Il nome presbiterianesimo deriva dal fatto che alla base dell'organizzazione vi sono gli anziani o presbiteri, che sono i veri responsabili delle comunità e che vengono eletti dei fedeli. Il presbiterianesimo è tipico delle comunità protestanti della Scozia. Il congregazionalismo è un principio ecclesiologico protestante secondo il quale la comunità locale, la congregazione, ha un'importanza più grande della Chiesa come istituzione universale. Il principio è applicato in modo più o meno rigoroso dalle diverse Chiese, in particolare dalle Chiese Battiste. Un'evoluzione recente ha ravvicinato le Chiese di tipo congregazionalista alle Chiese riformate. Il congresso congregazionalista mondiale si è fuso con l'alleanza riformata mondiale. In Inghilterra i congregazionalisti vennero chiamati puritani, infatti propugnavano una Chiesa sempre più purificata dei residui cattolici, perché perseguitati in patria i puritani emigrano in massa nelle colonie americane, iniziando dai famosi padri pellegrini, che nel 1620 partirono a bordo della famosa Milleflower. Calvino fu un uomo duro e intollerante. Nel 1536 Calvino, in visita a Ginevra, accetta di sostenere i riformatori locali e viene nominato professore di teologia e predicatore. Due anni dopo però è espulso dalla città per le sue posizioni estremiste. Viene richiamato nel 1541 e vi rimane fino alla morte, avvenuta nel 1564. Il regime teocratico che instaura governa la città attraverso una serie di ordinanze che prevedevano severe punizioni non solo per deviazioni dottrinali, ma anche per atti quali la danza, il gioco, la vendita e il consumo di birra. Il governo viene affidato alla responsabilità ministeriale dei quattro ordini introdotti da Calvino, pastori, dottori, anziani e diaconi. Il concistoro, composto dai pastori e da 12 anziani eletti dalle autorità civili, diventa una sorta di prema corte giudicante, fino anche alla vita privata dei cittadini. Una cappa plumbea, sfissiante, cala su Ginevra. Molte sono le vittime del sistema calvinista. A scopo di controllo si compiono più volte all'anno visite a domicilio e all'occorrenza. Si ricorre anche alle denunce e allo spionaggio prezzolato. I trasgressori vengono colpiti da munizioni, deplorazioni e scomuniche, esclusione cioè dalla Sacra Cena, e obbligati a far pubblica penitenza. I grandi peccatori, come i sacrilichi, gli adulteri e gli avversari ostinati della nuova fede, sono consegnati al Consiglio Cittadino per la punizione. Vengono eseguite molte condanne a morte, 58 fino al 1546, e più ancora all'esilio. La tortura è usata nel modo più rigoroso. La città deve sottomettersi, seppure di malavoglia, alla disciplina ferrea di Calvino. Tutte le feste religiose scompaiono, eccettuate le domeniche. La vita della società ginevrina acquistò l'impronta di una tetra serietà. Le vesti di lusso, i balli, il gioco delle carte, il teatro e simili divertimenti erano severamente condannati. La lista delle vittime è tristemente lunga. Il predicatore Sebastian Chatillon, biblista che proponeva un'interpretazione del Cantico dei Cantici sgradita a Calvino, è costretto all'esilio. Il medico Girolamo Bolsek, un ex monaco carmelitano apostata che aveva osato contestare la dottrina della predestinazione insegnata da Calvino, viene espulso dalla città nel 1551. Non si tratta solo di questioni squisitamente teologiche. Essendo stato bandito il gioco delle carte perché ritenuto frivolo e immorale, Pierre Amex, che aveva anche richiesto al concistore il divorzio dalla moglie, viene ridotto allo stato di indigenza. Suo mestiere era appunto la vendita delle carte da gioco. Spinto dalla disperazione, pronunzia parole offensive contro il regime puritano di Calvino. Viene incarcerato e, nonostante avesse responsabilità all'interno della comunità riformata ginevrina, per disposizione del concistoro, è sottoposto a una punizione umiliante la sua dignità. In data 8 aprile 1546, il Consiglio pronunciò la seguente sentenza. Avendo visto il contenuto delle risposte, dalle quali ci sembra che egli, Amex, abbia malvagiamente parlato contro Dio, il magistrale e il ministro Calvino, eccetera, si ordina che sia condannato a fare il giro della città in camicia, a capo scoperto, con una torcia accesa in mano e che poi venga innanzi al tribunale a invocare le misericordie da Dio e dalla giustizia, in ginocchio, confessando di avere mal parlato, condannandole inoltre a tutte le spese e che la sentenza sia resa pubblica. L'affaire Perrin è sintomatico della situazione imposta a Ginevra da Calvino e dei metodi adoperati per reprimere ogni forma di dissenso. In questo episodio, infatti, si ritrovano tutti gli elementi che concorrono a mostrare il volto del riformatore, proibizione dell'espressione delle gioie più umane, come la danza in occasione di un matrimonio, carcere, esilio e anche spargimento di sangue. Protagonista ne è Ami Perrin, che pure inizialmente era stato un sostenitore di Calvino. Questi i fatti. In occasione di un matrimonio fra giovani di distinte famiglie borghesi, si festeggia con un ballo. Il concistoro convoca tutti i partecipanti che per paura respingono l'accusa, eccetto due di essi, fra cui Perrin, che è costretto a fare ammenda del crimine commesso. Sua moglie, però, Francesca Perrin, figlia di François Favre, personaggio alto locato a Ginevra, continua a protestare pubblicamente e provocatoriamente a danzare. Poiché gode dell'appoggio di molti cittadini, stanchi delle vessazioni del concistoro, compaiono anche scritti anonimi contro Calvino e i suoi partigiani. Infuriato, questi, ordina una perquisizione in casa di uno degli amici della famiglia Perrin e Favre, Jacques Grouet. All'interno vengono trovati materiali compromettenti, cioè quaderni e annotazioni polemiche verso il regime teocratico di Calvino. La punizione è implacabile. Condanna a morte per decapitazione. Il caso più noto è quello di Michel Serveto, il medico spagnolo che negava il dogma della Trinità. In territorio francese, a Vianney, egli è sottoposto a un processo da parte dell'inquisizione cattolica, che ad opera materiale fornito, segretamente, da Quillemme de Tré, un amico di Calvino, che già nel 1546, in una lettera al riformatore francese Quillemme Farrel, aveva scritto «Se verrà qui, posto che la mia autorità abbia un peso, non tollererò che se ne vada vivo». Anche condannato in Francia, Serveto, probabilmente con la dissimulata condiscendenza del blando tribunale inquisitorio cattolico, fugge e si rifugia proprio a Ginevra, ove, riconosciuto, viene immediatamente condannato a morte e arso vivo nel 1553. Il ruolo giocato da Calvino in questa vicenda mostra lati umani veramente riprovevoli, non solo fanatica e intolleranza, ma anche ricorso allo spionaggio, spirito vendicativo e, a vicenda conclusa, menzogneri tentativi di ritrattazione delle sue responsabilità. «La cosa più triste in tutto ciò», conclude lo storico protestante August Lang, «è che nella sua difesa contro Serveto, apparsa nel febbraio 1554, Calvino non ebbe il coraggio di confessare il ruolo che aveva avuto nell'imprigionamento di Serveto a Viennet. Afferma seccamente in questo scritto che è una frivola calunnia accusarlo di aver consegnato l'infelice ai nemici mortali della fede». Il governo teocratico di Calvino non sopravvive a lungo, anche se a esso si ispirano le comunità riformate che si diffondono stabilmente in molti paesi d'Europa. Al di là dei successivi sviluppi, quanto avviene a Ginevra negli anni 1541-1564 mostra tratti delle personalità di Calvino che confermano l'inopportunità di ricordare la nascita di un uomo orgoglioso e ambizioso. Secondo gli storici, Pierre Jourda ed Édouard de Meureux, c'è qualcosa di duro nel suo carattere. Di quell'orgogliosa certezza che gli ebbe, fin dal 1536, di essere in possesso della verità, ed anche le sue collere, i suoi rifiuti di scendere a discussioni, il disprezzo per i suoi avversari, la facilità a coprirli di ingiurie spesso grossolane, quando poi non si trattava di odio e dei rigori che sottrae secco. I martiri cattolici torturati e giustiziati durante le persecuzioni perpetrate dai calvinisti costituiscono una pagina cospicua e inducono a una silenziosa riflessione. I calvinisti olandesi e gli ugonotti francesi si immacchiano di crimini efferati contro quanti desiderano conservare la fede dei loro padri. Le cronache riportano episodi raccapriccianti, preti crocifissi, sventrati per poi riempire il cadavere di avena date in pasto agli animali, esecrabili mutilazioni del corpo. Orrori questi associati alla disacrazione di chiese, di immagini venerate e persino della realtà più sante. Si diede pure il caso dell'eucarestia date in pasto a una bestia. I germi infettivi di questo anticattolicismo animato da tanto odio e poi espresso in affarata violenza sono radicati nel pensiero e nell'esperienza religiosa di Calvino. Ecco una sintesi del pensiero del riformatore Piccardo sulla chiesa cattolica. È una consorteria di preti perversa e fatta di menzogne che pratica al posto della cena un sacrificio abominevole e che si compiace di superstizioni infinite. Le sue riunioni pubbliche sono come scuola di idolatria e di impietà. Ci si può separare da essa senza scrupolo né timore. È più un'immagine di Babilonia che la città santa di Dio. Lo stesso calvinismo ha dato fondamento anche alle aberranti convinzioni razzistiche. Se Dio sceglie parzialmente perché questa stessa parzialità non deve riflettersi anche nel rapporto tra gli uomini? Inoltre se Dio ha già scelto chi deve salvarsi e chi deve dannarsi indipendentemente dai meriti e dei demeriti allora vuol dire che può esserci qualcosa per capire chi è tra gli eletti o meno. E perché non può essere oltre il successo economico anche l'appartenenza razziale? Il comportamento dei coloni nelle terre dei giovani Stati Uniti d'America nei confronti delle popolazioni indigene fu dovuto anche alle dominanti convinzioni calviniste. Il massacro su scala industriale dei Pelle Rossa comincia nel 1637 per mano di coloni inglesi, puritani, ferocemente anticattolici. Stesso discorso per i motivi alla base dell'apartheid sudafricana. Nota di basta bugia. Per meglio capire le caratteristiche fondamentali della dottrina di Calvino e quindi del calvinismo, divideremo lo schema in due parti. Cosa Calvino accetta di Lutero e cosa Calvino afferma di nuovo. Ciò che Calvino accetta di Lutero. Il libero esame delle scritture. La concezione sul peccato originale come corruzione intrinseca e irreparabile della natura umana e quindi come conseguente perdita del libero arbitrio e dominio incontrastato della concupiscenza. La concezione della giustificazione estrinseca e la convinzione secondo cui basterebbe la cosiddetta fede fiduciale senza le opere per ottenere la giustificazione estrinseca. Ciò che Calvino afferma di nuovo. La fede fiduciale non solo dà la giustificazione estrinseca ma la stessa salvezza irreversibile fin da questa vita. La predestinazione assoluta al paradiso o all'inferno è decretata da Dio a suo piacimento per ogni uomo così le opere dei predestinati al paradiso anche se cattive sono da Dio considerate sempre buone mentre le opere dei predestinati all'inferno anche se buone sono sempre considerate cattive. La chiesa sarebbe formata dai soli predestinati al paradiso ossia da coloro che aderiscono a Cristo con la fede fiduciale. La chiesa è costituita solo dalla predicazione della parola di Dio. L'autorità della chiesa non deve risiedere nei vescovi bensì nel collegio dei pastori o in collegi misti di pastori e laici. Esistono solo due sacramenti il battesimo e la cena ma solo come segni esterni della predestinazione al paradiso. Nella cena non avviene né la transustanziazione cattolica né la consustanziazione di Lutero.